Allora, ciao a tutti! Guardo la strada! Eh, infatti, sto guidando, quindi è meglio che guardo la strada, quindi vi saluto così e basta. Faccio questo video velocissimo mentre sto andando in macchina con mia cugina al centro commerciale. Ciao! Perché vi volevo dire che mi dispiace che sono scomparsa, perché è tipo un sacco di tempo che non metto video, che non scrivo su Facebook, su Twitter e queste cose qui. Perché sono stata a Brescia, la scuola dove ho fatto il corso, tolgo la musica se non riesco a parlare, dicevo, sono stata a Brescia nella scuola dove ho fatto il corso perché ho iniziato a fare lo stage, che dura un anno, in cui si sta lì nella scuola e si lavora così, si può assistere ai corsi e robe varie. E sono stata molto impegnata lì perché è una casa molto faticosa e impegnativa, ma bellissima perché sto imparando tantissime cose. Cerco di non andare a figlia contro un albero. Per il resto, niente, credo che metterò un video che ho fatto a inizio estate su la salsa al caramello, che l'avevo fatto, poi non mi piaceva molto come era venuto perché sembravo triste, però non ero triste, era solo che non lo so che. Dovevo andare al mare, quindi non avevo tanta voglia di stare dentro casa. Però mi sa che lo metto lo stesso perché magari a qualcuno interessa e mi dispiace che sembra triste, ma non ero triste. Poi, che altro devo dire, Flan? Non lo so. E poi basta. Tra una settimana torno a Brescia perché continuo l'anno di stage che finisco all'aprile, quindi l'ultima settimana di vacanze. Cerchiamo di non fare un incidente. Esatto. E poi basta, la vita è sempre la stessa. Perché? Eh sì, grande amore. Diciamo, mi servono semi fidanzato. Sì, senza semi. Questo va su internet lì. Mamma mia, sti cavoli! Una amica ha detto che va a ammazzo bambini. Ok, sti cavoli. Non ammazzo bambini. Se ce l'ho come fede. Quanto è scemo. E' proprio scemo. Quanto sta che per fare questo video ho chiuso i finestrini perché sennò c'è un bordello assurdo. E stiamo morendo di caldo. E stiamo schiappando di caldo. Quindi niente, ultima settimana, poi torno a Brescia, ma giuro che mi impegno per essere presente, attiva, fare video perché mi sento un sacco in colpa che voi mi seguite e io invece vi ho abbandonato così. E basta, quindi cercherò di fare più video possibili e risponderò in questi giorni a tutte le mail che ho trascurato e non l'ha risposta. Di resto basta. Adesso me ne vado al centro commerciale a fare un po' di shopping. Un po' di shopping. Per il resto domani vado al mare, vado a San Benedetto del Tronto per una settimana. E venerdì torno a Brescia. E niente, oggi è sabato quindi stasera si esce altre cose. Basta, vi ho reso partecipi un po' della mia vita super emozionante. Basta così. Ci vediamo al prossimo video che sarà appunto quello del caramello che però è prima di questo perché l'ho fatto tipo a luglio. Per il resto magari scrivetemi sotto questo video se c'è qualche dolce, qualcosa che volete, siete curiosi di vedere come si fa, ci provo perché come fate voi faccio pure io per le prime volte su tutte prove. Ci vediamo al prossimo video. Un bacione grandissimo e grazie che mi seguite sempre, che mi volete tanto bene. Mani sul volante. Eh, è vero. Che mi volete tanto bene e che non vi stancate mai di iscrivermi. Ok, come infine hai fatto così eccetera eccetera. Siete bravissimi, gentilissimi e migliori follower del mondo. Un bacione stragrande. Ciao! Ciao!